allora ciao ragazzi buongiorno facciamo un altro video sto mattino caricato uno facciamo un video per per chi non l'ha sentito quello che ha detto praticamente sarà in conferenza stampa sapete che la conferenza stampa adesso per pochi intimi quindi non si non le fanno vedere neanche in tv eccetera eccetera quindi vi dico più o meno quello che ha detto sarri nella conferenza stampa io la leggo più o meno leggerò quindi vi dico quello che ha detto però leggendo quello che è venuto fuori su web allora sarri dice che l'occasione è importante in palio c'è il primo trofeo della stagione il primo italiano per mauricio sarri lui parole povere dice che non capisce perché dicono che lui non ha mai vinto nulla in italia e su questa domanda lui dice che fare la gavetta per lui è stato molto importante dice mi girano mi girano i coglioni quando si dice che in italia non ho vinto niente io ho fatto tutte le promozioni sul campo senza saltare nessuna categoria e vinto ha vinto la coppa italia della serie di ha fallito solo una promozione dalla c alla b è un percorso difficile andare a prendere le promozioni nelle categorie inferiore adesso però voglio aiutare i ragazzi a vincere un trofeo per i tifosi per la società e per tutti poi dice bisogna stare attenti alle ripartenze del napoli lui glissa un po la parola sul napoli però dopo da quello che dice elogia abbastanza questa squadra infatti le sue dichiarazioni sono occhio alla ripartenze sare glissa sul napoli ma elogia mertens e gattuso mertens è un grande giocatore ha fatto benissimo è stato capace di trasformarsi da un attaccante in un attaccante diverso da quello che era primo rino gattuso mi piace molto mi piace molto ragazzo schietto che parla diretto non sono sorpreso perché secondo me aveva fatto bene anche il mila e non si fida degli avversari con l'inter in napoli ha cercato di aspettare gli avversari più bassi quando ripartano quando ripartono hanno una grande pericolosità negli ultimi tempi ha vinto con l'inter e con noi è pareggiato col barcellona ho avuto sensazioni brutte dopo la sconfitta in campionata abbiamo commesso errori contro palleggiatori cioè qui c'è le sviolinate praticamente al napoli contro palleggiatori eccetera eccetera in parole povere lui ha detto che a napoli hanno sbagliato parecchie cose e la solida conferenza stampa di sarri che in parole povere non dice nulla non dice niente di niente no poi dice che vuole il massimo sarri recupererà il massimo ramsey forse recupera che linea guain praticamente out ho vinto un'aggressività rara ho visto un'aggressività rara in alcune zone del campo è una supermerzia territoriale vicino all'ottanta per cento parlando della partita col milan condizionato da tanti fattori avevamo la sensazione che l'avversario non potesse farci male e questo ci ha portato a non chiedere al nostro fisico il 110 per cento dal punto di vista di intensità e la condizione fisica non può cambiare in maniera totale è un momento particolare e tutte le partite sono difficilissime dal punto di vista fisico e mentale dopo una lunga attività dirò dirò ai ragazzi che abbiamo giocato sette mesi e fatto altri tre lockdown io questa sinceramente ripeto quando lui dice io non lo capisco quando parla per arrivare a giocare queste partite dobbiamo tirare fuori il nostro meglio che magari non sarà il cento per cento ma il 90 per cento speriamo almeno 90 per cento poi dice che non vuole dare punti di riferimento al napoli davanti e dice senza i guain sari potrebbe riproporre il duo ronaldo di bala deve solo decidere se ronaldo punta centrale di bala che li gira intorno o di bala falso 9 e ronaldo nella sua posizione lui dice che davanti lui lascia spazio non non vincola i giocatori si arrangiano loro negli ultimi 30 metri in parole povere quindi questo questo è il quanto di quando ha detto sari voi mi direte che ha detto niente un cazzo media punti da top poi sardi alla fine dice questo infine sari ribadisce con orgoglio e la bontà del percorso fatto finora in stagione 45 prestazioni in cui non viene fuori niente ci sono sempre peccato che sono più di 45 ma andiamo avanti i risultati questa juve di questa juve sono i migliori da tanti anni a questa parte era da 50 anni che un tecnico esordiente non faceva questa media punti aspettate che lo vado a riprendere risultato da questa parte non faceva questa media punti la vittoria non è mai la normalità va sempre vissuta come un evento eccezionale e qua secondo me è la conferma che sari non ha ancora capito in che società è perché un allenatore che mi dice la vittoria non è mai la normalità va sempre vissuta come un evento eccezionale questo è sono parole di un allenatore provinciale un allenatore provinciale perché purtroppo caro sardi purtroppo per te nella juventus la vittoria dovrebbe essere la normalità almeno in italia ragazzi ho detto più o meno quello che ha detto sari in conferenza stampa cioè nulla va bene l'ultima se la poteva risparmiare benissimo perché visto il nostro motto e il motto di boni perti vincere non è non è importante ma è l'unica cosa che conta va bene e lui mi dice che la vittoria non dovrebbe essere la normalità ma un caso eccezionale a voi a voi le conclusioni e i commenti sotto al video grazie ragazzi spero di esservi stato utile per quello che ci ho capito pure io vi ringrazio e ci vediamo domani sera nella live reaction di luca totti nella partita juventus napoli fino alla fine forza juventus ciao ragazzi